Ciao sono Ambra e sto andando a fare la spesa, sì, ero struccata e tutto questo papiro di cose sono per andare a fare la spesa a parte gli scherzi ho voluto prepararmi velocemente insieme a voi per mostrarvi all'opera e darvi qualche parere la, io ne fossi già fatta un'idea, di nuovi prodotti all'interno di questo video, quindi realizziamo questa full face solamente con novità make-up, fatemi sapere se il look nella sua semplicità e spontaneità vi piace e vi lascio al video, ciao! Quindi mi voglio preparare con voi e colgo l'occasione per farvi vedere alcune novità intanto vado ad applicare un pochino del mio siero, questo è il Midnight Serum di L'Oreal al solito lo applico di sera, l'avevo comprato per recensirlo per voi e credo di fare comunque un contenuto forse su Instagram dove lo paragono ad Advanced Night Repair di Estée Lauder, vi dico già che io uso da anni Advanced Night Repair di Estée Lauder, celebre siero di rinnovamento cellulare e non danno i soliti risultati questo è uno dei pochi sieri di cui cogliete gli effetti a lungo termine, quindi dopo 4 settimane è uno di quei prodotti dove si può fare anche un discorso molto più spiccio, quindi come ti svegli al mattino dopo averlo applicato beh in effetti la pelle è molto più idratata e lavora molto bene sulla luminosità, ripeto non equiparabile ad Advanced Night Repair però devo ammettere che i tratti comuni sono diversi e questo è un prodotto che mi sta piacendo quindi sì, se siete curiosi vi dico già che non è affatto un cattivo prodotto lavora sulla luminosità, rinnovo cellulare e lavora anche molto bene sull'idratazione del viso comunque non mi sta dispiacendo, non in ultimo mi ha affascinato il packaging, il motivo per cui ho deciso di comprarlo perdonate ma do un po' del mio contorno occhi, io do questo ragazzi, mi sto trovando benissimo è di Perricone MD, tra l'altro dovrebbero esserci ancora gli sconti sul sito Perricone magari vi lascio il link di questo contorno occhi che utilizzo io, mi trovo benissimo questo ha un effetto anti-età e liftante di solito lo utilizzo la sera, la mattina invece utilizzo quello al tè verde che è in dotazione con l'occhiale LED di Current Body vi invito a vedere quel video perché io sono stupita dagli effetti dell'occhialetto LED tra l'altro confrontandomi con tante di voi che utilizzano la luce LED per le imperfezioni del viso ho notato che sono dispositivi che lavorano molto molto bene, cioè i risultati sono effettivi io il risultato dei miei occhialetti a luce LED per perioculare l'ho notato tantissimo a parte anche nella colorazione forse delle occhiaie ma non solo il risultato più effettivo nel contorno occhi con l'utilizzo del dispositivo LED di Current Body magari ti lascio qua sotto nell'info box così vai a vedere tutti gli articoli, prodotti di cui parlo anche per vedere i costi o le specifiche tecniche l'ho riscontrato soprattutto in termini di gonfiore e mattine d'estate con queste temperature mi alzavo con un contorno occhi proprio che tratteneva liquidi quindi gonfio, congestionato e quest'anno no e questo è merito esclusivamente dell'occhiale LED e l'altro prodotto invece che voglio applicare è il Sunshine di Neve Cosmetics questo è un face primer adatto ai vegani con SPF 30 ha un profumo meraviglioso di frutta, un trifugato di fragola, caramella è un prodotto furbissimo perché ah, intanto vi segnalo che sul sito Neve avete sempre da anni il mio codice sconto che è AMBRA10, potete utilizzarlo su tutto questo è un prodotto molto intelligente secondo me perché è un primer a tutti gli effetti quindi vi aiuta effettivamente molto bene a trattenere il make up sul viso per tante ore la texture è molto piacevole da applicare, svanisce, si applica con molta facilità non appiccica, non la percepisci quindi hanno fatto un buon lavoro e può essere in tutto e per tutto sostituito a una crema viso anche perché sarebbe troppo andare a mettere siero, crema viso e questo prodotto ecco, quindi è una sorta di tutto in uno tra protezione solare, crema viso e primer io mi sto trovando benissimo questo veramente è uno dei migliori prodotti usciti in casa Neve Cosmetics negli ultimi anni e mi sentirei di consigliarlo anche a pelli miste rimane in effetti un prodotto molto idratante ma non mi ha buttato fuori particolari oleosità fondo tinta viso, non ho grandi novità quindi vado a riapplicare lui con cui mi trovo benissimo, anche se è un prodotto idratante questa è una crema colorata di Nars, mi piace perché la trovo leggera uniforma benissimo, va molto bene per le esigenze della mia pelle io utilizzo la colorazione Groenland, ha un sottotono leggermente caldo quindi mi dà questo effetto di finta salute baciata dalla fortuna mi piace questo prodotto, questo ve lo consiglio anche per l'estate soprattutto per l'estate e lo vado ad applicare con questa spugnetta che è appena arrivata da Shiglam è bellissima perché ricorda una pesca e sto testando questi prodottini nuovi ora andiamo a provare anche qualche novità di Shiglam questa spugnetta vedete in microfibra non sono una novità per me perché vi ricordate che avevo acquistato diverse spugnette simili su Amazon trovo che diano un'ottima stesura ai nostri prodotti liquidi ma come vi avevo detto questi nascono per sfumare anche prodotti in polvere e lasciano sul viso un effetto diverso il fondotinta o comunque in genere i nostri prodotti per la base trucco risultano quasi a effetto pudre polveroso già incipriato per intenderci non so se avete provato spugnetta di questo tipo se confermate la mia percezione o meno ma io ce l'ho comunque cerco di andare veloce perché io rido e scherzo ma sono le 11 e mezza ho stoppato un attimo il lavoro oggi lavoravo da casa sto anche creando dei contenuti per voi su Instagram e devo assolutamente andare a fare la spesa perché non ho più nulla in frigo non ho più nulla più che altro ho finito l'acqua io senza acqua non vivo o meglio ho l'acqua naturale ma io bevo solo acqua frizzante non riesco a digerire bene l'acqua naturale lo so, lo so che è stranissima questa cosa ed è una contraddizione in termini ma l'acqua naturale la percepisco pesante e sto anche attenta a comprare quella con residuo fisso più basso e tutte queste menate ma no io devo avere la mia acqua anzi vi dico anche il brand Sant'Anna frizzante Sant'Anna o Lauretana le mie preferite ok raga proseguiamo do un po' di correttore uso incognito concealer di Wet n Wild con il quale mi sto trovando bene ora la colorazione che ho in mano è la medium neutral di solito utilizzo quella più chiara ma è sparita in casa mia spariscono le cose ragazzi i gatti giocano con i miei cosmetici se io lascio qualcosa di incustodito tra minuti e si sparisce tutto tutto sparisce in questa casa comunque come sapete io abbondo nella quantità di correttore così poi con una spugna che trattiene più prodotto vado a rimuovere gli eccessi questa è la mia tecnica è una sorta di baking del correttore mi trovo benissimo la utilizzo da anni sfumo con la medesima spugnetta e questo correttore ha un effetto molto naturale non secca la palpebra ma non scivola nemmeno via quindi la composizione è ben dosata equilibrata non secca ma al contempo non si infila nemmeno nelle pieghe ok ora voglio andare a fissare tutto con una novità Shiglam questo è Insta Ready ed è un Face and Under Eye setting powder duo quindi qua all'interno di questa confezione tra l'altro bellissima devo ammettere che i pack Shiglam sono interessanti vediamo poi se performerà oggi vado solo a applicarla poi vi saprò fare una recensione dettagliata e noi oggi stiamo provando delle novità che conosco quindi mi esprimo altre no ad esempio questa e sopra abbiamo una cipria compatta e una in polvere libera sotto la colorazione che ho portato qua con me è la translucent che mi sembrava quella più neutra quindi che non alterasse il colore della base viso tra l'altro non sono nuda ho questo vestito che ha un sacco di anni è un tubino di Zara l'avevo preso ma una cosa come sette anni fa otto forse anche di più perché il tempo corre fuga ma è un tempo le dicevano i latini e mi piace tantissimo un po' largo perché nel corso di questi sette otto anni sono dimagrita però continuo a metterlo mi piace molto la cipria sta togliendo ogni luminosità oleosità come proprio si assorbisse la parte oleosa del fondo non si è separata granché però è come se avesse portato via un po' di colore questa cipria la devo capire ha allora un bellissimo effetto minimizzante sui pori non ha nemmeno una texture troppo secca non sto sentendo il viso che stride che stringe quindi non è particolarmente astringente pialla come se non ci fosse un domani raga sta cipria oddio non si è comportata male però è come se avesse succhiato via un po' di di prodotto si è come se smangiasse via un po' la base l'effetto è wow non me lo aspettavo mi piace l'unica cosa nel contorno occhi ha rimosso via quindi tolto coprenza al correttore questo me lo fanno diverse cipere di solito però in polvere compatta proviamo la parte 2 questa è ultra opaca voglio vedere come si comporta sapete che io faccio tutti i miei test la parte sopra ovviamente la senti anche al tatto è molto più secca come texture però la parte in polvere libera non mi dispiace sta fissando soprattutto ho riempito i porri ha proprio livellati fino a farli scomparire l'ha fatto anche con le rughette di espressione che ho in fronte per ora non mi è dispiaciuta la devo capire valutare meglio sul contorno occhi ma ovviamente il genio della lampada cosa ha fatto ha già incipriato il viso e l'altra cosa che volevo provare era uno dei blush Sheen questi in realtà li avevamo già comprati io avevo comprato quelli più piccoli questi sono più grossi sono i color bloom liquid blush scelgo un colore a caso intanto vi lascio qualche clip delle colorazioni e penso di utilizzare questo sì mi piace il 104 risky business sorrido e come vi dico sempre è vero che il blush va messo su base viso struccata ma se vi fidate della base viso e della vostra applicazione se lo andate a mettere sopra una cipria bisogna fidarsi anche della cipria il blush durerà di più e non perderà luminosità quindi non è errato tecnicamente applicare il blush prima della cipria o dopo c'è anche questa regola dei makeup artist per cui è vero questi sono stra pigmentati quindi ho esagerato questa regola dei makeup artist per cui il prodotto in crema va messo sempre prima delle polveri la donna sta cercando di sfumare però vedete che non sta spostando la base trucco si sfumano molto bene questi blush già li conoscevo perché li avevo comprati ma e non sono affatto male hanno anche una perla luminosa però senza glitter che li rende perfetti per l'estate o comunque per risvegliare un incarnato un po' spento un po' grigio bello mi piace sono stata forse un po' troppo bassa perché io parlo con voi mi distraggo fondamentalmente comunque andiamo a buttarlo in su anche un po' qui e dicevo questa regola del makeup in crema prima delle polveri non è sempre vera e se fate dei test su voi stesse sui prodotti che usate ve ne renderete conto andiamo a provare qualche altra novità comunque è bellissimo questo blushino è molto molto figo ah ora il segreto è ritamponare un po' di cipria che però toglie luminosità ma almeno lo fissa anche se credo che la formula sia identica a quelli che ho che ho già in mio possesso questi hanno anche una buona durata per essere blush economici e liquidi caldo i contorni del viso con un po' di terra uso la nuova edizione dell'aula di Benefit i pack sono più piccoli tra l'altro l'altro giorno ero a Sephora a Lucca ho visto che c'erano le mini taglie dei blush e io invece avevo sempre saputo che era un'esclusiva online del sito Sephora e come vi dico sempre sbirciate i nuovi blush Benefit perché non ve ne pentirete soprattutto i mini taglie hanno un costo davvero agevole cioè proprio riuscite a portarvene a casa uno o due senza spendere sto mondo e quell'altro dunque la ola di Benefit è uno di quei prodotti che io ho acquisto da anni e non mi stanca mai ora io devo assolutamente inserervi questa meraviglia qua che abbiamo già visto in un video su scoperte Amazon io raga ve la consiglio tantissimo costa 23 euro attualmente l'ho appena fatta comprare anche la mia vicina di casa è flashata da questa palette l'Orac Pro Palette in Noir vi metto il link qua sotto apritelo perché lo trovate al prezzo più competitivo lo stesso link da cui l'ho acquistata io quindi è sicuro raga è meravigliosa questa è veramente una spesa furbissima perché con 23 euro avete un gioiellino gli opachi sono ultra scorrevoli non fanno macchie gli shimmer ultra luminosi i colori durano anche senza primer per ore meravigliosa scala cromatica range cromatico super furbo perché ci fate trucco giorno sera potete utilizzare diverse texture insomma io credo che sia l'acquisto più furbo che ho fatto negli ultimi sei mesi questa devo dare giusto un tocco di colore questo è un make up molto basico voi in estate vi truccate come vi organizzate riuscite a a gestire i vari prodotti io ovviamente mi trucco soprattutto perché voglio testare prodotti essendo questo parte del mio lavoro quindi ho bisogno di sapere come si comporta una texture piuttosto che un prodotto a contatto con a fa caldo umidità ed ecco che più c'è caldo più mi vedete magari con delle cose in faccia pesanti e mi viene sempre da ridere perché persone che sanno quello che faccio mi dicono ma perché ti trucchi con questo caldo no forse perché voglio avere un'idea sul prodotto sulla performance di un prodotto con il caldo comunque ho appiccicato grossonalmente dei colori tra cui questo bellissimo grigio canna di fucile lo appiccico così questo quindi è venuto fuori un make up freddo abbiamo deciso che è freddo bene la ora sciacquo magari il dito questa ragazzi voi la dovete comprare te la meriti la devi comprare tre minuti e abbiamo fatto arrotondo velocemente i bordi dove avevamo messo la terra quindi è la terra che lavora nella sfumatura questo lo dovete comprare perché è fantastico altra scoperta lo costa Amazon ed è easy liner super matte un eyeliner ultra opaco dal penino di precisione molto sottile con cui riuscite a fare anche dei lavori grafici volendo ma delle linee da piccole sottili a più spesse quindi mi piace molto dura anche tantissimo e il prezzo economico comunque vi voglio registrare a brevissimo un video sui migliori nella fascia economica lui ce lo devo inserire ricordate di inserirlo vedete che bel taglio preciso riesce a dare in poche mosse adesso novità Nabla che non vi ho ancora mostrato in azione i loro pennarelli sopracciglia con molta onestà vi dico che su questi io non ho pareri perché mi sono arrivati qualche giorno fa e non ho ancora fatto il tempo a testarli scelgo natural brown e vi do anche due dritte a questo punto quando andate ad applicare un pennarello sopracciglia di questo tipo potete andare con uno scovolino pulito a pettinare le vostre all'insù e se non volete rovinare la punta di questi brow pen il consiglio che vi do è quello di passare un cotton fioc asciutto pulito in quest'area per rimuovere ogni traccia residua di sebo se non avete messo la base viso quindi oleosità naturali del viso o se avete applicato una base viso per eliminare sulle sopracciglia tracce possibili di fondotinta correttore che potrebbero asciugare la punta di questi penarelli sopracciglia comunque l'altro trucchetto invece è riporli sempre a testa in giù anche in questo modo la punta non asciugherà prego si la punta è molto sottile quindi si riesce a lavorare con infinita precisione vado proprio a ricostruire con dei trattini il mio pelo laddove il mio pelo manca e quindi oggi questo me lo testo per bene sotto al caldo quindi oggi direi che è la giornata giusta anche perché siamo già a 36 gradi e sono nemmeno e nemmeno a mezzogiorno altro ieri qua da noi è venuta una tromba d'aria paurosa sembrava di essere nel mezzo di un tornado in America non so se da voi si è verificato qualcosa di simile ma vi dico solo che stavo cenando era buio al tempo si spegne tutto va via la luce vedo arrivare un tornado sì era una tromba d'aria con la coda sembrava di essere in un film mi ha impressionato non poco cose di velte davanti a casa piante che volavano di tutto e di più a me personalmente fortunatamente non ha fatto grandi danni ma ad altri sì e poi siamo rimasti senza luce per tutta la notte fino a tutto il giorno dopo tant'è che anche ora dovremmo essere con i generatori di corrente cioè proprio tutto il mio agglomerato di case ha i generatori dati da Enel è la tropicalizzazione del clima mascara in realtà non ho mascara nuove da farvi vedere quindi vi ho parlato dei miei preferiti di tutti mascara dell'ultimo periodo quindi vado ad applicare questo di Mesauda questo è il Big and Trick Lashes ok questo l'ho comprato su Amazon ed è figo lavora molto bene tende a appiccicare un po' le ciglia quindi dovete magari stare attenti nella stesura ma mi è piaciuto tanto l'unico aspetto di questo mascara che mi inquieta ma non è fastidioso non è un limite che rimane umido per tutto il giorno non so se l'avete provato il mascara Big and Trick Lashes di Mesauda ma rimane umido se voi toccate le ciglia fra due ore sono appiccicosine umide 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 spanna di mezzogiorno mi devo spicciare raga perché mi chiude il supermercato devo comprare l'acqua e poi oggi faccio non so vorrevo fare uno spaghetto ho voglia di uno spaghetto alle vongole quelle pronte ci butto un po' di odori un battutino d'aria un po' di peperoncino due vongoline di quelle suggerate la buona già pulite già pronte e ho voglia proprio di uno spaghetto alle vongole non so perché ho le voglie come le donne incinte novità labbra sono arrivati i nuovi prodotti Diego Dalla Palma in questa box è la Oh My Lip Guard ho visto che sul sito ufficiale Diego Dalla Palma potete acquistare anche tutta la box che comunque non è economicissima però poi potete prendere i singoli prodotti questa ve la mostro in anteprima giusto perché è arrivata ieri mi ha colpito tanto e abbiamo nella prima parte abbiamo uno scrub labbra una maschera intensiva labbra un lip plumper e un balsamo labbra nel cofanetto sotto invece abbiamo quattro balsami labbra che sono molto interessanti perché sono colorati effetto glossato hanno un'azione idratante e emolliente sulle labbra ma contengono SPF 50 più andiamo a applicarne uno e scelgo questo che è il numero 121 loro sono i Protect My Lips balsami protettivi labbra vediamo un po' com'è il colore che ho scelto ok molto acceso e secondo me a mio gusto insomma il contrasto con questa sorta di smoky molto veloce freddo non mi valorizza particolarmente quindi lo rimuovo e scelgo un colore un po' più nude di solito questi balsami labbra infatti lo vado a fare io amo applicarli con le matite tanto è un rossetto colorato con protezione 50 molto idratante quindi applico la matita la matita è la mia solita della Denona della linea nude e vado ad applicare quindi abbiamo detto 124 di questi balsami protettivi tutto in uno secondo me mi sta meglio il nude mi sta molto meglio vero raga si questo è un nude eccolo qua non c'è paragone rispetto a prima prima andava a creare troppo contrasto troppa saturazione il colore più chiaro comunque questo è bellissimo ora mi piace un casino il look l'abbiamo improvvisato è una roba veloce perché dovevamo uscirci però ecco invece vi volevo far notare guardate questo color io lo chiamo canna di fucile perché è un grigio fondamentalmente come sta bene sul mio incarnato sapete che io di solito amo i look più caldi invece devo ammettere che questo è uno dei pochi colori che comunque sono nella gamma non solo dei freddi ma anche dei blu perché ha una grande componente di blu è uno dei pochi colori che mi sta bene a chi riesco a vedermi e mi ricorda molto Gunmetal della Naked ho preso una punta di correttore per andare qua dove Samani facendo la ceretta da sola ai baffetti mi sono scoriata perché io vi dico tutti i consigli per massimizzare le vostre performance a casa quindi metti prima la cipria scalda bene la ceretta per non portare via strati di derma poi predico bene e razzo lo male a voi vi do tutti i consigli per bene poi io faccio dei casini dei disastri bene raga io vi ringrazio di esservi preparate con me vi state truccando anche voi come mettete i miei video per rilassarvi per dormire mentre fate le faccende in casa mentre lavorate studiate quando mi guardate non lo so mi interessa saperlo lo voglio sapere o anche quando vi preparate non lo so ditemelo mi interessa molto e ne è uscito un trucco velocissimo ma bello mi piace molto e niente raga corro a fare la spesa grazie di essere state in mia compagnia l'augurio sempre il solito non scordate di starmi bene ah guarda anche gli ultimi video perché sono davvero molto molto interessante santi